Auguri a tutti, io sono direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna e sono molto felice che cominciamo questa stagione con questa opera Manolesco in questo anno cuciniano, centenario dopo la morte del grande compositore italiano. Manolesco è anche la prima opera dove Cucini arriva a un successo veramente mondiale. Oggi abbiamo cominciato la prima prova e facciamo le prime letture con l'orchestra e per noi è molto importante raccontare questa storia con passione. Quando si incontrano Manolesco e De Grier, due amanti sono quasi in un altro mondo e si sente questo subito dal primo suono dell'orchestra. E questo è stato molto ispirato da Tristan e Isotta di Richard Wagner per mostrare questo collegamento nel secondo atto. Cucini fa una citazione undici volte del famoso Tristan Accord. Voglio invitare tutti a vedere questo capolavoro del grande compositore italiano Giacomo Cucini.